Salve ragazzi qui del Tentot siamo su Marvel's Avengers eccoci qua che siamo in missione in 4 e useremo Captain America versione seconda guerra mondiale ovviamente in compagnia di Hulk, Verona Nera e Iron Man con una skin abbastanza interversiata aggiornamento destinazione, raggiungamento immagino tu sappia dove trovare i codici Jarvis ha fatto delle ricerche, lì ha un comandante di una base locale dell'AIM quindi dovremmo fargli visita sarà molto interessante quelle missioni secondo me sono ancora con la campagna lo so, lo so cosa mi state per dire e quando farai la recensione con calma perché ho avuto molto da fare d'accordo, recuperiamo quei codici di lancio vedete, è bello questa questione che tu puoi andiamo, vediamo vediamo se non ci sono dei questa mappa già l'ho vista non è quella, non è la mappa dove Iron Man è scappato come un pazzo sì, sì, raga, è quella giusto, ok, no, era per vedere come va a camara? bene ok, forse un po' nervosa c'è un baule con dell'equipaggiamento nelle vicinanze cercate un baule con dell'equipaggiamento nelle vicinanze e abbiamo due non l'avevo visto quello ah, una forza inaudita non capirà bella stola, bella mi sento razzata facciamogli male, gente no, spostati ok, vediamo se ci sono riuscita sì, ci so ancora fare ok, però ne mancherebbe altre no, dov'è? ok, non era qua devo capire dove lo sapevo, guarda posso entrare dalla parte posso entrare dalla parte opposta bellissimo dalla parte che non dovevo entrare credo che dovremmo sbrigarci non sbagli allora, in teoria hai ragione ma non c'è scalenza di tempo quindi potrei correre un po' no, infatti non ce la faccio no, non posso fare che palla ero sicuro oh, che bello ce l'ho fatta volevo capire si, salite tutti, eh no, stavo vedendo dove dovevo andare ah, ecco te ah, eccolo qua uno aspettate due scendi ecco perché io non l'ho trovato finiamo in fretta c'è una buona non preoccuparti ecco, è arrivato pure di là tra di me oh, quant'ansia c'è capitato da America adesso eh, eh lui fa tutto per forza è pure madonna quanta roba ho sbloccato solo che mi aveva detto che c'era un'altra cosa in zona no, mi sembra che qui non c'è più nulla tranne là in fondo ok, no che sto guardando ok, andiamo a partire là madonna che casino fermo così immagino che il comandante della base sia quello grosso quello nell'area centrale attiriamo la sua attenzione se lo trovo ah, ecco ho trovato è sparissimo cercate un baule con delle risorse speciali nelle vicinanze no, doveva dire Avengers Uniti no, che tristezza disonore a te, famiglia e la tua mura beh, capitano America tecnicamente non ha la famiglia poverino allora è vero che no è il lavoro tanti saluti madonna sparano oh, una Gabriella com'è a Gabriella ah, ecco com'è solo una ferita superficiale si, lo sto notando ah, eccolo 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 quel bastardo eccolo eh, solo ah, meno male eccolo oh, meno male cazzo è fuori combattimento ti ringrazio vabbè quello che è diventato madonna ma che bestia qualcosa ottimo lavoro sto estraendo sto estraendo i codici di lancio è tempo di prendere l'ascensore non proprio comandante l'ascensore è controllato da un sistema di autenticazione a più punti con tre centraline Jarvis dovrà entrare in tutte per completare l'autenticazione e farvi entrare perché è sempre tutto così difficile perché se no non è se no non è Avengers cara mia sì ci so ancora fare più o meno beh, almeno abbiamo preso qualcosina in materiale però dobbiamo andare dal coso dell'equipaggio qua ci vuole vedo la nera raga che palle più o meno signora lei è me dopo non faccio altro che vincere 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 diamo compagnia oh eccoci qua madonna che bestia ah noi dobbiamo andare là in fondo perché non si può fare il cambio di uno dei nostri alleati della resistenza nelle vicinanze ha bisogno d'aiuto un altro cattivo il limite buonanotte tesoro bella si è massacrato tutto lui è un po' debolino infatti ma dove il nostro compagno blocca ah qui dentro allora è vero che imbordo scusate che sono tanto concentrato al ma dove il nostro compagno che ha detto che era in trappola ora ora ho mai più cap salite su quell'ascensore prima che lo blocchino definitivamente non importa quanti sono possiamo farcela dai distruggiamolo si 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 tranquilla qui c'è il posto l'amico captain america capitan america è ottimo come personaggio ha funzionato dio usi i suoi poteri ora sei al sicuro bene banche niente ok bene qualcosa mi dice che dobbiamo andare là quindi andiamo lì dovrete accedere alle tre centraline che bloccano il sistema di sicurezza così jarvis potrà entrare l'aim proverà a sbatterlo fuori quindi dovrete occuparvi dei loro soldati sarà così facile più centraline meglio è continuate così l'aim controlla una centralina stanno provando a bloccare jarvis bene jarvis inizia ora guarda che è facile questo è un percorso dove siamo tutti vicini tranne il c che non capisco a il c è sopra te sparisce avvengers No, stanno conquistando il B, ma scendo, però devo conquistare il B. Dovete allontanare la I.M. da quelle centraline. Sì, 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 aspetta. Dai che lo gestisco io poi. Anzi, livello 3. I.M. controlla una centralina, stanno provando a bloccare Jarvis. Tutti i blocchi di sicurezza dell'ascensore sono disattivati, via libera K. D'accordo, ci siamo. Corsa super lunga in ascensore? Arriviamo! Dai, andiamo. Dai. Peccato che ho sprecato però il terzo attacco, però è andato bene. Dai che sta venendo bene. Se avete notato i personaggi, Iron Man, Black Widow, Hulk, non sto ricevendo tutti stitane. Attenzione, signore. Sarà una corsa piuttosto turbolenta. Che se? Reggetemi tutti! Incredibile! Non sappiamo che tipo di difesa abbia il satellite. Entriamo. Attiviamo l'autodistruzione e ce ne andiamo in fretta. Chiaro? Cristallino. Rilevo l'attivazione di diversi nemici. Qual è il piano? Ci apriamo la strada fino al nucleo centrale e sovraccarichiamo i loro sistemi energetici. Cercate il terminale che apre le porte del nucleo centrale. Teoricamente sono stato al centro e non dovevo andare. Ok! Rendetevi una pausa, ragazzi. No? Quale pausa? Comunque non vedo l'ora di finire questa campagna, ragazzi. Alla I.M. piace proprio andare sul sicuro, eh? Così posso fare le missioni cooperative. Dovete distruggere tutto. Il satellite resterà operativo. Ma che ci faccio in satellite? Scusate, non ho capito come siamo riusciti a arrivare in satellite. Siamo pronti, Cap. Non appena distruggerete il satellite invieremo un messaggio su scala quanto più vasta possibile. Buonanotte! Buonanotte! carico energetico su tutta la stazione beccatevi questo lo sentivo dai che se ce la facciamo giusto contro il tempo ha distruggiato no c'è uno che c'è si la rete delle comunicazioni sta crollando possiamo trasmettere ai nostri van posti sulla costa orientale e presto a tutto il mondo non ce la faccio più dai dai ma chi è quello ragazzi sto lottando contro il tuo sono bloccato no chi è che mi ha fatto la controlla del bella involontariamente ho fatto una si è buggato fantastico cos'è a casa gli altri dove sono quelle pericolose ma che cacchio è è ora di colpire centro di comunicazione compromesso distruzione della stazione imminente scarpiamo scarpiamo andatevene da lì sta per esplodere bene gente è il momento di impegnarsi sul serio vabbè vabbè come facciano a scappare eh rimangono 30 secondi ho capito attenzione integrità della stazione critica evacuare immediatamente madonna che casino oh è andato benissimo guarda non che casino però è stata tostina ma a me ricompensa io questo volevo ok un casco ok Jarvis trasmetti il messaggio certamente signore parla Capitan America a chiunque stia lottando contro la tirannia dell'Aien a chiunque sia spaventato e non sappia cosa fare gli Avengers sono tornati non vi deluderemo di nuovo ok però mi interessa andare qua perchè beh sapete dobbiamo livellare quindi ovviamente mi conviene questo il migliore sarebbe questo se sto guardando eh questo ce l'ho raro però se eh ce l'ho raro questo peccato però questo eh beh decisamente meglio no? gli altri invece li devo fondere quindi smantello questo smantello questo smantello questo smantello questo smantello questo potenzo questo potenzo questo e questo non lo posso potenziare però sono di potenza che non mi dispiace però devo potenziare qua allora allora vedete come devo fare bello quindi ecco vediamo qua un attimo ah e questo mi serve vedete? eh questo mi serve colpisce un po' più unità però devo tenere carico il colpo assolutamente perché Capitan America questa è la cosa migliore bellissimo bello eh no perché Capitan America se lo potenzi così è OP bene dai a posto resta sul corso perché dobbiamo andare se c'è una missione vedete com'è bello che possiamo rifarlo eh livello 40 non ce l'ho livello 40 eh mamma io ho delle missioni da sbloccare alcune eh questi sono più potenti di me di 12 non lo posso fare vediamo qua se c'è qualcosa da fare perché qua io sto usando comunque Capitan America eh in teoria ricordiamoci si sto guardando questo è troppo forte azzo torro wow è una missione di torro oppure la fa eh se no faccio come tutti voglio la missione storia andiamo alla missione storia raga dai facciamo la missione storia vediamo un po' eh però bello Capitan hanno fatto dei miglioramenti prima la visiera era brutta fatta male ingrandiva gli occhi adesso l'hanno fatto più decente poi ripeto stile seconda guerra mondiale c'è stato eh si è giusto pure il scolo comunque cittadini ci troviamo qui dove i manifestanti si sono riuniti per rispondere a una minaccia alla libertà nazionale molto grave questa mattina i capi delle principali agenzie militari si sono ritrovati sotto minaccia dei nuovi abattoidi dell'AIM il panico è scoppiato quando molte persone hanno visto dei mezzi AIM sospesi sopra le principali città mentre l'esercito ha iniziato a mobilitarsi la nazione è rimasta in stato di nervoso stallo ma certo è roba mia quella è la mia tecnologia un attimo succede qualcosa attenzione rilevando attività di un'arma si prega di evacuare l'AIM immediatamente l'AIM è qui dentro te signore una richiesta d'aiuto da un luogo sicuro della resistenza di New York l'AIM ci sta attirando se li salviamo sembrerà che stiamo attaccando la città se qualcuno ha bisogno di aiuto lo aiutiamo fate quello che dovete partiremo all'alba ehi cap se vuoi vederlo ho chiesto a PIM di mandarci quello che ha su New York raggiungimi nel laboratorio tecnico il laboratorio tecnico saluti oddio somiglia a me sono più bello poi dovremmo andare qua oddio dove è il laboratorio tecnico? cos'è? ma spero ci stanno nuove interazioni spero che potremo scoprire di più con l'impressione che abbiamo visto solo la punta dell'iceberg ah non posso interagire con te speravo i Thor vediamo se posso parlare con Thor e però la sua stanza è troppo simpatica chissà quando introdurranno nuove personaggi ci sono curiosi azzo lei sta là Tony sta ancora lavorando lì con l'armatura oddio belle vedi sono state migliorate del design bene ok vediamo cosa hai da dire d'accordo Nat che cosa abbiamo? sembra che PIM abbia tracciato quella cosa da quando è apparsa in cielo non sembra seguire un percorso predefinito quindi non possiamo anticiparne i movimenti PIM ritiene che risponda agli allarmi degli agenti AIM e a quelli dei propri sensori ci vedrà arrivare probabile la resistenza ci fornirà i suoi dati così avremo sempre informazioni sulla sua posizione questo dovrebbe darci un vantaggio magnifico vai preparare il queen jet voglio essere pronto per il decoro considera lo fatto oddio quelli andiamo al queen jet ok non mi trovo il queen jet sull'altra parte beh non riesco a muovere ecco il momento di una testimonio ovulare dell'estrosione non è chiaro se qualche detrito sia sopravvissuto all'arietro dell'atmosfera ma le forze di polizia chiedono a più quei nomi dei detriti di portarli all'ospedale il centro medico con un'azione di cui sono più vicina chiaramente l'ordine che non capisco perché la gente si creò nessuno ha dichiarato guerra nessuno ha reclamato di sardegno se fosse davvero il risultato di sardegno potete andare a sardegno potete andare a sardegno ancora? si sta allenando ok oh vediamo qua no niente caffè ho già abbastanza adrenalina così saluti coraggioso avventuriero comunque hanno avuto la stessa genialata mi piace l'idea che hanno fatto un po' alla ripeto hanno fatto un po' alla Destiny 2 il fatto dell'equipaggiamento che aumenta man mano livellando il personaggio equipaggiandolo mi aspetta che Quick Jet è qui però non dovremmo partire forse è che dobbiamo ho capito dobbiamo fare come missione ok dobbiamo andare alla missione per noi stiamo per lo strondo un po' lo vediamo udite udite vabbè dai un comment andiamo in missione e infatti il prossimo è pesantino eh capire in america si devo livellare capire in america qui useremo capire in america anche se possiamo selezionare selezionare eroe e voglio cambiargli la sua skin non voglio essere equipaggiamento si ma anche decisamente meglio mi pare ha avuto un ottimo miglioramento equipaggiamento collezione sono aumentati le statiglie le cose però voglio ho un elemento estetici bello solo che ovviamente vi metto questo scusami eh oh finalmente no uno ah ok ah si è fatto un po' la barba pensi di cambiare meglio un po' la schiena da un po' che oh finalmente allora questo ok ma questo è ancora meglio praticamente probabilità di ottenere traffica di volontà con un nemico bellissimo e ah gli attacchi con 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 ah ottimo si perché praticamente così può fare dann già infetta mettiamo pure questo tipo di danni ancora meglio vabbè devo potenziarlo un po' però con calma le abilità possiamo aumentare l'abilità mmm eh la specialista eh questo aumenterebbe un bel un botto però rimaniamo sul primario ok eh questo sarebbe molto interessante bella ok andiamo su questo bello le targhe mmm questo è l'originale rimaniamo con questo ok però vorrei le targhe sono rimaste le stesse eh si infatti lasciamo con questo lei invece vediamo un po' no pazzo non ho neanche una skin extra per lei ho solo questa versione qua triste no rimaniamo con questa eh mi dispiace ehm targhe eh belle ecco la che avevo scelto altrimenti c'è questa non mi piace neanche questa no mmm rimaniamo con questa equipaggiamento vediamo intanto che cosa è uscito di bello ah ecco ah bellissimo cioè questo ha portato il 26 ma il massimo è questo danni danni ah resistenza ah ok resistenza buono quindi eh però questo eh precisione questo postanza però postanza madonna non riesco mai a capire cosa intende eh questo non lo posso mai livellare grazie al cavo eh rimaniamo così ehm ok te invece tor si con lui non ve l'ho mai fatto vedere quindi vi faccio vedere eh eh l'equipaggiamento elemento estetico lui ha due specie ha ovviamente la versione sua questa e questa versione a me piace molto la classica però è troppo mmm strana mi carrei questo mi carrei dai non mi rimanevo con questa le abilità invece ah posso potenziato ho la sua un'abilità madonna che cannonata brutta mmm ok si perchè sto guardando un attimo devo mettergli almeno del verde raga ah questo forse è l'unico blu ok eh però gli equipaggiamento li ottengo eh involontariamente li ottengo per tutti ok meglio così lasciate stare che se equipaggio se potenzio questo può diventare pericoso cosa che farò già farò già da ora lo so direbbe ma scusa i livelli si ma mi serve il poter il livellamento di sti cosi ok però io rimarrò e lei invece come siamo messi con lei non ho visto volume e niente aspetto estetico bene o male voglio ricambiare un attimo gli metto vabbè no vabbè rimaniamo con questo eh vedete devo eh questo al massimo vuol dire che non va bene ok allora eh ok no sto guardando quale mi conviene tenere ok gli altri fanno un po' tutti la carino eh non va bene sì e vedete come funziona il gioco no? dovete sapere cosa conviene fare o non fare decisamente meglio questo questo sta ad esempio il massimo e potenziale così aumenta la sua potenza raga 28 perfetto ora si che va bene livello 8 però a posto ok vediamo cosa può fare ah bello aumenta la tipologia di combo ok no stavo guardando un po' bello e allora facciamo questo tieni eh sì ok bene raga continuiamo sempre con capto america ok poi come compagno uno due e tre anzi in realtà vorrei togliere Hulk e mette Thor ok così potenzio un po' Thor che dovrebbe livellare in teoria mi ricordo poi non lo so spero che mi dà una mano perché Thor è debolissimo vedi quando ti d'accordo qual è il piano? non so se riusciremo ad entrare in città senza farci entrare sì ho l'impressione che il risorgere dal mondo dei morti richiamerà un po' l'attenzione allora dovremmo attirare la loro attenzione ad esempio con un figlio di Odino ha 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 fulmini in arrivo Captain non ti noteranno neanche lì a terra beh tecnicamente sei poi lì perché parli con il microfono se vabbè non come comunque è figo Thor cioè è meglio tenerlo così chissà qualche altra skin alternativa e non so neanche se il futuro update metteranno ovviamente occhi di falco perché secondo me aggiungeranno i personaggi per la co-op online ma verranno poi introdotti ci stanno contattando signore sentiamo c'è qualcuno ci hanno trovati dicono che devono curarci ma sappiamo cosa significa vi prego qualcuno ci e questa cos'è? qualcuno ha trovato una radio? non preoccupatevi presto sarete tutti curati Jarvis puoi stabilire la posizione subito signore allora vi ho dovuto mettere una scusi si ok quello che se ne va bello e fresco allora dicevo bella tubi eh dicevamo che mo ci facciamo la missione madonna mi fa ricorda molto il matto madonna che muovi i miei compagni sembrano i quelli la di marvel sape auto metal ha 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 bellissimo non ho mai sconvitto un avversario così facile si vede che è un pro ah ecco come funziona bellissimo Thor tu voli tu lo sai questo pure tu Iron Man tutto ciò però avanti avanti lì allarme intrusi codice rosso aspettate lì vi tireremo fuori subito quelle celle energetiche controllano il meccanismo di chiusura non tutti insieme non tutti insieme non tutti insieme non tutti insieme Non fare qualcosa che rimpiaggerai! Ha funzionato! Io uso i suoi poteri! Ora sei al sicuro! Aspetta! No, non sono ricercato! E distruggiamo anche questo! Comunque è una bella tematica questo qua! Bella! L'ha scioccato tutto! Credo ti andrà invisibile! Bella fisica dalla questione che ti hai posto! Basta! questo viene dal cuore no no l'energetico proprio allora che brutto volo che ha fatto distruggere quel cocchio di coso mamma mia che casino c'è un baule con dell'equipaggiamento nelle vicinanze ah ok andiamo grazie vi prego stanno rastrellando la città in cerca degli inumani i nostri amici erano diretti al rifugio vediamo un attimo scusami grazie 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 ma dai non mi ricordo c'era un altro che era qua fuori si sto cercando di ricordare allora no perchè il fuori mi ha fregato uno ok poi c'è l'interno che c'è uno là ok un altro là ah ah si ecco qui è disgraziati ragazzi ho più di uno comunque uno là e un altro qua bene ora si che possiamo andarci si dobbiamo andare per l'altri te la facciamo ce la facciamo what oddio cosa ho appena visto ah c'erano feriti questi spariti si sto guardando un po' intorno ok nelle vicinanze c'è un'unità d'elite AIM se la sconfiggete potreste ricavarne qualcosa di utile se uno dici dove magari lo capisco ah proprio davanti a noi proprio ok però cosa e lo so è fatta una massa grande ma contro un capitano americ che vuoi fare aia oh che bello volentemente compete contro un capitano americ dai ma giustamente uno dice ecco qui ma vediamo noi stiamo livellando quindi a sto punto ci conviene vedete cosa ci conviene fare mamma mia ottimo è uno mentre nell'equipaggiamento vediamo un po' mamma mia no tutta un'altra cosa allora questo diciassette ti è vedete mi conviene eh eh però questo se faccio danni è molto più è ottimo eh però è buono entrambi ah poi ci penserò però si ho deciso uso questo questo tiene e questo tiene sì 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 non ci fate caso così si gioca un po' a se si vuole fare una bella partita ok siamo al potenzialamento 20 alla faccia questo è difficile livellare e questo ancora presente beh dobbiamo madonna madonna quanto è brutto come facciamo a salire là oh scusi ho scassato involontariamente ok so dove andare ok sì che devo capire dove devo passare c'è un alleato della resistenza nei guai nelle vicinanze e ha bisogno d'aiuto e andiamo c'è un baule con delle risorse speciali nelle vicinanze sono vuote i morti dovrebbero rimanere tali captain e i deboli devono fare spazio ai forti mi suona familiare ma quelle persone sono state scoperte ragà ragà dove siete dove siete ah grazie tor mi ringrazio cerchiamo gli numeri bene sappiamo che sono armati fino ai denti e che amano sentire il suono della propria voce chissà chi mi ricorda uh qualcuno parla di me aiutatevi a vincere no ma eh dimmelo ma ecco dove era lo screen ok bene almeno abbiamo fatto qualcosa ma dove dobbiamo andare ok andiamo andiamo eh vedo come bellissimo che questa è una biblioteca predisegnata bene lasciatemi è bellissimo come l'abbiamo si trova se vuoi andare è ora di colpire ok c'è un alleato dello shield nei guai nelle vicinanze e ha bisogno d'aiuto e ho capito però non mi puoi togli mettere in 3.000 cose non è sicuro cercate un riparo mentre liberiamo la strada per il rifugio ok andiamo simonia il dottor Pym sta inviando degli agenti per scortare i superstiti fuori dalla città li ha avvertiti ma sono intrappolati all'interno vi invio il codice per entrare nel rifugio ok veramente essa dobbiamo tirarli fuori di lì avete capito praticamente io sto guardando come distruggio perchè devo distruggio pure la che gli dà lo scuro distruggiamo il vento si è ecco devi sfruttare tutta la parte meno male che la fisica guarda lo scelto guarda lo scelto i punti e lì ecco se l'aria bene adesso dovremmo madonna dovremmo andare per di là si infatti ci stiamo facendo tutto un percorso mamma mia eh avete visto come quanto tempo ci può ci bloccano la strada non è un caso madonna quello là è arrivato il momento non tutti insieme arrivano non fare qualcosa che rimpiangerai buonanotte non è stata una mazzasata mi mancava uno dei loro agenti è a terra ho notato eccellente altro agente a terra guardiale di Asgard bellissimo il guardiale di Asgard tanto nemico sconfitto praticamente se facciamo quella cosa dello stordimento raga guardate che accumuliamo vita è un po' ok io oddio oddio lo fatti di te è piccolissimo ecco che cosa succede con l'attività ah ah ma cosa volevo io tempo stimato di Pim i suoi agenti stanno arrivando ma gli occorre tempo non so quanto tempo abbiamo la nave si avvicina non so da mai dobbiamo andare a tirare ho capito madonna quanto è grande però sta mappa e poi dico no ma le mappe sono i location sono piccole scusatemi ma non ho i diritti per quelle macchine quindi non posso farle vedere oh oh ripetisco come fa una gente a aver giocato in nove ore finire questa cacchio di campione ecco rilevo qualcosa nell'atmosfera un derivato del terrygen ma non ho mai visto nulla di simile siamo in pericolo lo siamo sempre vero vero questa è una dei miei pick-up preferite era ci siamo qui le misurazioni sono più concentrate meglio entrare ok ma luogo 2 vediamo un po' Avengers venite ok ora parliamo lieto di vederti vediamo qui non possiamo hanno quelle cose che danno la caccia agli inumani abbiamo provato a scappare ma hanno occhio ovunque ci occuperemo noi dei cani da guardia non preoccupatevi non intendo loro quella cosa è in cielo è qui state qui finché non arriva la resistenza torna sembra che ci servirà un po' di supporto aereo qualunque sia la minaccia la affronterò in cielo livelli di terrygen in aumento attivati i respiratori cos'è quel coso? è la madonna ah quel coso gigante ok ho capito qual è madonna altra volta la testolina piccola cioè quella testa come il ragno gigante la volta scorsa quella macchina è la fonte del terrygen alterato è stata geneticamente modificata per cercare il gene degli inumani ed eliminare il portatore non per molto il pulmine dov'io posso dobra in per destrucci Ok, per ora, non è vero. Ossia, non è vero. Non ti auguro. Cosa? 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 qua mi serve un Iron Man però e come ho buttato giù qualcosa? no bella fuori 1 ciao guarda come sei morto si è bloccato? no stiamo cercando da qualcosa no 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 dai che abbiamo quasi fatto scusate che non sto parlando ma sto totalmente concentrato attento fatevi passare individuato punto debole fatevi dovinare il muso fatevi dovinare il muso va bene ho caigli il loro punto debole ho caigli il suo punto debole no 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 sta facendo progressi Ok, sparite Oh, già, anzi ho fatto qualcosa di spettacolare Mamma mia che casino Scusate che sono talmente concentrato Solo una ferita superficiale Ragazzi, distruggetelo Colpiscilo, colpiscilo Grande Comunque è sempre un mini boss Alla fine Poi dicevo che ho troppi pochi boss No, c'è postato Portiamo la sua scatola nera sulla chimera Farò un po' di ricerche Si è un po' fatto Bene, oh, livello 7 Da 6 a 7, boom Buono, buono, buono È andata benissimo ragazzi Anzi, veramente insoddisfacente Già vi so' caricato il database del trasmettitore della mare Traccia e lancio Trovo una rotta Quel terrigem scuro Tarleton vuole ucciderci tutti Dobbiamo fare qualcosa Non può curare gli inumani Quindi intende eliminarli tutti Ed è solo l'inizio Signore Che abbiamo? Secondo la rotta di volo La macchina proviene dalla Baia di San Francisco No, non è possibile Ho sorvolato quell'area decine di volte dopo l'Aidea Magari è un trucco Studiato apposta per detestarci Difficile Le radiazioni e esilui di minerali Confermano che la nave è stata nell'area della Baia di recente Com'è che nessuno l'ha vista? Come non hanno visto arrivare le navi È occultata Una quarantena Nessun mezzo in entrata o uscita In bella vista Esatto Ho appena intercettato un segnale È la madonna Così? Centinaia in decollo da San Francisco No Se non le fermiamo moriranno a migliaia Allora andremo alla fonte E la fermeremo Jarvis Rotta per San Francisco Sì, capitano Ok Vabbè Se dovremo Affrontare la Fortezza mortale del testone Un esercito di robot e una flotta di navi da guerra Tanto valzato con stele Giusto? Neh Ok Cazzo corazzatissimi Aspetta Non dici quella cosa? Cosa? Lo sai? Avengers uniti Non la diciamo davvero Stai tranquilla ragazza Ricevuto Mi piace molto Bene raga Dobbiamo stoppare qua Quindi c'è il sabbos fight Non lo posso fare Quindi lo farò per la prossima volta Abbiamo fatto un bel video Quindi faremo In modo l'ultima parte Qui dal 38 Al prossimo video Passo e chiudo Servit SANTILI